A proposito di questa discesa in campo con il popolo della famiglia e qui con noi per Milano, a Milano appunto, mi chiedono gli amici ma non è che state rifacendo l'ADC, state rifacendo il partito cattolico, non è che siete troppo schiacciati sulla Chiesa, come fa a votarti uno che non crede? Il punto è che ogni politica, ogni filosofia ha alla base un'interpretazione della realtà, un'interpretazione della persona umana e riteniamo che quella della Chiesa, al di là del fatto che sia una religione o altro, è un'interpretazione di che cosa sia la persona e che cosa sia la realtà che ci piace molto. La stessa domanda andrebbe fatta allora a chi ha ideologie diverse, delle domande su che cosa ritengono sia per loro la persona e che cosa sia la realtà. La nostra è molto chiara, è molto evidente ed è di buon senso, è qualcosa che ci convince al di là della fede, ci convince per la ragione. Anche perché quando si parla di politica e di amministrare una città si va al sodo, si va al senso della famiglia, al senso del lavoro, al senso dell'ambiente, della protezione dell'ambiente, al senso dei figli, al senso dell'educazione. E su queste cose qui non ci sono questioni di fede, ci sono solo questioni di ragione, di ragione e di verità. Paolo Pugni, Popolo della Famiglia, Noi per Milano, con Nicola Mardegan, Sindaco. Buona giornata.